... Abbiamo pochi bit, brandelli di informazione, ma quello che sappiamo per certo è che un bel giorno, all'inizio del ventunesimo secolo, l'umanità intera si ritrovò unita all'insegna dei festeggiamenti. Grande fu la meraviglia per la nostra magnificenza mentre davamo alla luce IA. IA vuol dire intelligenza artificiale. Quindi io... Benvenuto nella tua desertica nuova realtà. Grazie. 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 Grazie.